Valorizzazione e manutenzione del patrimonio boschivo nella pineta di Mareapia d'Alghero. Si tratta di uno dei più interessanti lavori per il ripristino della funzionalità dei siti costieri. Il progetto, avviato il 30 dicembre scorso dal Comune di Alghero insieme all'Agenzia Forestas, può contare su un finanziamento di circa 90.000 euro e il tempo previsto per la durata dei lavori è di 5 mesi. L'obiettivo principale, grazie all'impegno di 5 unità lavorative, è la messa in sicurezza di diversi tratti della pineta ed inoltre è prevista la rimozione di piante e alberi che hanno terminato il loro ciclo vitale e quindi non sono più utili alla tutela del sistema dunale e potrebbero solo rappresentare un pericolo per i frequentatori dell'area verde. La pineta di Mareapia è un elemento preziosissimo e di grande pregio naturalistico, paesagistico e turistico per la città, afferma l'assessore alle manutenzioni Antonello Peru e i lavori previsti vanno nella direzione di un miglioramento della vivibilità e della sicurezza.